Jimmy's Hole, video recensione al caldo di Jimmy's Hole, una storia d'amore e libertà, non un film di Ken Loach, è un film non brutto ma che no, non è brutto, però non è bello, è un film che soffre delle solite lacune, se vogliamo definirle così, del cinema di Ken Loach, questo schematismo politico, questo essere, sì, è un schematismo politico dire, tutti i comunisti sono bravi, intelligenti e i fascisti, o comunque quelli di destra, sono tutti coglioni e cattivi, insomma, schematismo politico è un film, cioè, tutto il cinema di Ken Loach soffre sempre di questo schematismo, di questo parlarsi addosso di politica, di essere così schierato politicamente, però in altri film, posso citare Brad and Roses, posso citare il mio amico Eric, che l'ho trovato molto interessante, molto bello, ma lì, non lo so, te lo riesce da qualcosa, in uno c'era Rick Antonai, in un altro c'era Dream Brody, c'era una storia sull'immigrazione, sullo sfruttamento degli immigrati, che era un po' più interessante, qui è un film in costume, agli inizi degli anni del Novecento, ed è un film veramente che... ma in realtà il problema del cinema di Ken Loach è un cinema di lotta, e non solo politica, ovviamente, appunto, di politica, di lotta contro il potere, bla bla bla, ma è un cinema di lotta anche all'interno del cinema, è un cinema di lotta che lotta, un cinema di lotta che lotta, tra il contenente e il contenuto, come posso dire, tra la forza del contenuto, della storia, delle idee politiche non, perché mi agito così tanto, delle idee non che, scusate, che sovrastano appunto l'aspetto estetico, il contenente, come si vuol dire, come la realizzazione, che se anche una scena è bella, interessante, però viene subito troncata, viene subito distrutta dall'oppressione tematica e politica, appunto, del pensiero di Ken Loach. Una scena bella, come ce n'è una in questo Jimmy Saul, di una danza di notte, al chiaro di luna, anche se, sì, al chiaro di luna, volendo anche se, all'interno di questo, appunto, di questo casolare, di questa sala da ballo, da bello, al chiaro di luna, perché di notte c'è questo ballo molto sensuale, però subito viene troncato da riferimenti politici, riferimenti politici, questo, appunto, forte schema di un politico, quindi si riduce tutto a Siamo comunisti, vive comunisti, che sopravvi a pelle, vive tutti gli altri cattivi, sporchi fascisti, vive comunismo, coppandiera, rosso vive comunismo, capite voi che, anche se l'aspetto tecnico è interessante, perché è girato molto bene, senz'altro, E ci sono, appunto, c'è uno sguardo, c'è un occhio, molto interessante, che tu dici, ammazza, però qualcosa c'è, e lo sguardo con cui rappresenta, un modo in cui rappresenta, appunto, la gente comune, il villaggio, il villaggio dove si svolge, non un villaggio, insomma, Il luogo dove si svolge tutta quella, tutta la vicenda, tutta la storia, tutto molto ben rappresentato, anche i personaggi sono ben delineati, però, appunto, viene tutto soffocato alla fine, e ridotto, appunto, a, via comunismo, e quindi è un film che soffre di questo, e niente, è questo, volevo dire, insomma, è un film non bello, non brutto, sufficiente, nulla più, Purtroppo, questa volta, Ken ha toppato, e speriamo possa tornare a un cinema che sarà sempre uguale, ma magari con qualche venatura interessante, interessante, interessante. Alla prossima, adio.